Brutte notizie per la formazione rossonera che dovrà rinunciare a Rafael Leão per le prossime settimane dopo essere uscito per infortunio nella prima frazione della gara contro il Lecce. L'attaccante portoghese ha affettuato degli esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado albicitide femorale destro. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa quattro settimane. Per quanto riguarda il capitano Davide Calabria invece sono state escluse le lesioni, si tratta di una edema al flessore semidenzioso sinistro. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!